Ciao a tutti cari ascoltatori meteo e ben ritrovati a tutti in questo nuovissimo video Oggi in questo aggiornamento andremo a parlare della possibile data della prima irruzione d'aria fredda in maniera molto molto seria perché le temperature sono attese al nord che non supereranno i 14-15 gradi e sul centro-sud che non supereranno i 20 gradi quindi possiamo definire la prima vera ondata d'aria fredda della stagione che comunque non è proprio la vera prima perché già precedentemente qualche ondata d'aria fredda si è appalesata ma non ancora di questa intensità per scoprire quando sarà e per rimanere sempre aggiornati con nuovissimi video affidabili precisi e dettagliati proprio per il tuo territorio sei sul canale youtube perfetto e infatti ti basterà iscriverti al canale cliccando il tasto iscriviti qua in basso a destra lasciare un bel mi piace e attivare la campanella per ricevere sempre notifiche in tempo reale sui tuoi dispositivi così da non perditi neanche un singolo mio video tantissimi di voi non sono ancora iscritti e quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi detto questo cominciamo subito dal vedere l'evoluzione in questo esatto momento l'italia è sotto ancora effetto dell'ottobrat che è iniziata ieri che finirà già nella giornata tra oggi e domani soprattutto sul centro-sud perché al centro-nord le temperature sono già scese anche di tanto di oltre 5-6 gradi con valori massimi generali su tutto il centro-nord che non stanno superando i 17-20 gradi l'evoluzione vede che poi questa aria fresca arriverà a partire dalla giornata tra il 18 e il 19 ma le temperature scenderanno sul centro-sud a partire già dalla giornata del 18 e l'instabilità che proprio questa data inizierà a farsi vedere in maniera seria anche su regioni centro-meridionali l'alta pressione rispetto al video di ieri e ieri l'altro ha perso un po' di forza soprattutto qua sul lato dei Balcani che non crea un vero e proprio blocco definitivo ma riesce comunque a far penetrare un po' di aria fresca proprio dalle Balcani verso l'Italia comunque come possiamo vedere temperature che su tutto l'Italia diminuiranno in maniera molto sensibile soprattutto sul centro-sud visto che adesso sono con temperature quasi estive per quanto riguarda il centro-nord temperature che saranno sicuramente in diminuzione ma in maniera molto più lieve a partire poi dalla giornata del 20 le temperature tenderanno leggermente ad aumentare ma in maniera poco sensibile su tutta l'Italia e a partire dal 22 la grande svolta perché proprio a partire dal 20 21 quindi tra 4-5 giorni inizierebbe a prendere forma la possibilità di un'irruzione d'aria fredda che arriverebbe tra non molto più di 7-8 giorni perché come possiamo vedere a partire proprio dal 21-22 l'aria calda si sposterà verso la Germania e verso la Polonia e nel frattempo piomberebbe questa maxion data d'aria fredda per il periodo su gran parte d'Europa e anche sull'Italia più o meno la data d'impatto sull'Italia nella giornata tra il 25-26 ancora tanti giorni i miei principali modelli lo stanno mostrando come vi faccio vedere anche in questo momento con questo grafico dove potete vedere la linea bianca è la media dei modelli mentre invece la linea rossa quella più spessa è la media stagionale e proprio a partire tra il 25 e il 26 come si può notare ci sarà una grande inversione di temperature da una termica di circa più 8-9 gradi a 1500 metri una termica che farebbe addirittura fatica anche a restare sopra i 0 gradi in alcune parti del nord e soprattutto sul nord-est tornando al modello vi stavo facendo vedere questa eduzione in aria fredda che sicuramente verrà vista e rivista ma che i principali modelli ormai la vedono in maniera abbastanza netta proprio tra il 24 e il 27 giorno più o giorno meno bisognerà vedere come sarà l'evoluzione ma sicuramente con questa ondata ci sarebbero le prime nevicate a bassissimo quota su tutto l'arco alpino e anche sull'appennino neve che si inizierebbe a far vedere a quote già molto più basse dei 1900-2000 metri che c'è stato fino a qualche giorno fa temperature già invece di clima bello che invernale su gran parte d'Europa quindi su parte di Belgio Olanda Francia Germania Inghilterra ecco qui l'inverno si farà già sentire in maniera abbastanza forte ma comunque anche sull'Italia venendo e ricordando che ultimamente è stato molto più umido rispetto a questa stagione non ci possiamo certamente lamentare temperature di circa meno 6-7 gradi a 1500 metri sulle nostre alpi localmente forse si potrebbe attaccare una meno 8-9 ma aspetteremo a vederlo parlando di precipitazioni ecco questa è un'altra tematica importante perché nei prossimi giorni fortissime precipitazioni interesseranno parte della nostra penisola e anche sul centro-sud come potete vedere da questi modelli e o oggi o domani uscirà un nuovo video per fare chiarezza perché la situazione sembra prendere una piega molto molto importante per il sud perché il rischio di nubi fragili sta aumentando ma tralasciando un attimo questo argomento perché come detto ne parleremo in un prossimo video eccolo qua l'ondata d'aria fredda attesa tra il 24 e il 25 con se porterebbe anche pioggia che come possiamo vedere con un minimo depressionario che si andrebbe a creare sul Golfo Ligure porterebbe fortissime precipitazioni prima sulle regioni centro-settentrionali e poi centro-meridionali durante il suo passaggio localmente si potrebbe sviluppare anche qualche temporale nevicate che risulterebbero essere molto molto abbondanti sulle nostre Alpi e localmente come detto qualche fiocchetto ci sta anche sull'Appennino però ovviamente è ancora troppo presto per saperlo visto che è una tendenza a medio e lungo termine però ricordo essere abbastanza affidabile stando agli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda proprio le precipitazioni volevo farvi vedere che l'Italia nei prossimi giorni sono attese precipitazioni veramente molto abbondanti perché già con questa prima ondata di maltempo gran parte del centro Italia e nord avrà precipitazioni veramente tanto tanto abbondanti poi una seconda fase di precipitazioni abbondanti potrebbe proprio vedersi nella giornata tra il 24 e il 25 come possiamo vedere con accumuli che risulterebbero essere veramente molto rilevanti su tutta la nostra penisola comunque problematiche di siccità nei prossimi 10-15 giorni non dovrebbero esserci anche per i nostri amici del sud che spesso leggo i vostri commenti dove dite che al sud manca la pioggia ma presto dovrebbe arrivare attenzione al sud nella giornata tra il 19 e il 21 dove qua il rischio di un bifragio è veramente molto 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 alto ecco più o meno tutte le cose da dirvi ve lo dette vedendo anche le anomalie e temperature veramente molto molto sotto media rispetto a quanto dovrebbero essere con questa andata d'aria fredda addirittura su gran parte d'Europa temperature sotto media fino anche a 10-11 gradi sull'Italia di circa 9-10 gradi comunque sicuramente sarebbe un bellissimo segno da parte di un inverno che sembrerebbe prendere una piega molto molto interessante e presto vi porterò anche un video riguardante questo argomento io vi ringrazio della visione come sempre se non l'hai ancora fatto ti invito ad iscriverti al canale lasciare un mi piace e attivare la campanella per ricevere sempre notifiche in temporale e così da non perderti neanche un video proprio per il tuo territorio del metro Italia è tutto vi auguro buon proseguimento